Una seconda possibilità è concessa a tutti? A questa domanda sembra rispondere positivamente l'artista Claudio Spoletini, la cui mostra, intitolata la seconda chance, sarà ospitata dal 18 maggio al 18 luglio presso la sede di Banca Carige, in via Leoni da Bissolati di Roma. Un insalito abbinamento, quello tra finanza e arte, ma non per Banca Carige, il cui impegno nella cultura non è una novità. Noi abbiamo, per la nostra esperienza, noi siamo nati ieri come cassa di risparmio, ma fondando nelle radici del tempo Monte di Pietà, una funzione che è evidentemente molto legata alla gente, al territorio, e quindi questo evidentemente, specie all'esperienza di cassa di risparmio, ci ha portato ad avere anche un particolare legame con la cultura. Ho deciso perché qui sono già stato in una collettiva, mi piaceva lo spazio, lo trovo abbastanza interessante, anche in relazione al lavoro che faccio io, mi sembra che sia pulito, e quindi con questa precisione il mio lavoro ci va d'accordo. Tra tecnologie e giochi antichi, Spoletini dà al pubblico la possibilità di ritrovare la gioventù perduta, facendo un tuffo nel passato, ma sempre con un occhio rivolto al futuro. Io adesso sto facendo questo lavoro con la pittura, però lavoro anche con la fotografia, quindi praticamente da qualche anno, da 7-8 anni, lavoro su questo tema, diciamo misto, dell'industria e del giocattolo antico. Giocattoli antichi che adesso sono collezionabili e collezionati, io sono un collezionista di questi e quindi ho preso un po', diciamo, dal mio, preso il punto della mia collezione. I clienti di Banca Carige, e non solo, tra un'operazione bancaria e un'altra, potranno immergersi nell'arte per tutto il 2011, perché a Spoletini seguiranno le esposizioni di altri quattro artisti, Mauro Magliani, Pietro Mancini, Luis Serrano e Alexander Jacknagev. Lei ha già curato altre esposizioni per altre aziende, come nasce questa tendenza e che riscontri ha sul pubblico? Due anni fa veni qui in questa agenzia e dissi al direttore, dico questa è una bella agenzia, però non c'è colore. Siccome mi ricordava una saletta che avevamo proprio a New York, dico perché non... e così abbiamo iniziato. Ovviamente iniziare con dei quadri proposti a caso non era molto indicato. Genova, Città di Mare, abbiamo proposto una collettiva, io ho convocato 13 artisti chiedendo a ognuno un'opera sul tema dell'acqua. Abbiamo fatto questa collettiva, la Banca Carige ha realizzato un catalogo e poi siamo andati avanti con le personali di ogni singolo artista.